Ciao ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale originale, attivate anche tutte le notifiche, date anche un'occhiata agli altri contenuti e ora procediamo con il doppiaggio. Che c'è? Che cosa è successo? Ho trovato Clark nella sala motori! Sanguinava! Qualcuno l'ha reso una donna! Che vuoi dire? Si è... si è mangiato il suo cazzo! Che diamine? Chi farebbe mai così? Perché sono gay? Non era un problema per me, ma adesso... Forse gli piacciono i cazzi un pochino fin troppo. Ragazzi per favore, state calmi, troviamo una soluzione logica. Fate annusare l'alito. Non ci pensare nemmeno, Kent. Da merda! Oh cazzo! Io vado a giocare a zero pere per evitare che il reattore esploda! Voi fate le vostre missioni! Nessuno mi mangerà il cazzo! Uno, due, tre e quattro... Oh cazzo! Uno, due, tre e quattro... Oh merda! E ricominciamo! Penso ancora che sia stato Greg! Si può sapere perché ci legate? Perché io e Kent siamo gli unici etero qui dentro! E io so come trovare il nostro mangiacazzi! Boom! La scena in spiaggia di Top Gun! Chi farà più saliva rispetto a... Ma non è giusto! Rilassati Wyatt! La vostra salivazione alla vista di quei muscoli sarà la prova finale! Ma c'è un limite! Chi saliverà in grande quantità verrà sparato nello spazio gelido e infinito! E' lui, è lui, è lui! Aiuto, aiuto! Patrick, corri! Oh no, cazzo! Ehi! Cerchi un bel cazzo? Vieni qui! Perché hai fatto questo? Vuoi la verità? Il mio pene è stato sempre minuscolo... Rispetto ai vostri! Ti porteremo a Mad Bay e lì ti cureremo, vedrai! E spendere il resto della mia vita come donna? No, passo! Ti cureremo! Lasciami sanguinare in pace! Possiamo fermare l'emorragia! Vai a casa da mia moglie e di a quella meravigliosa donna ti amo! No! No! Io ti salvo che hociato Nella pr waiting! Però ti futura! Più è morto! Yeah! E allora, entro! E so...